La scea di colpi e danni delle attività commerciali di San Giovanni Valdarno preoccupa non poco i negozianti. Sono infatti almeno 10 furti registrati nell'ultimo periodo tra i negozi della cittadina valdarnese, addirittura c'è chi ha subito più di un assalto. A farsi portavoce adesso della preoccupazione è sempre più diffusa e confesercenti che chiedono intervento risolutivo ed immediato per mettere fine al fenomeno che si sta prolungando nel tempo. Come confesercenti dichiarano abbiamo in più occasioni sollecitato la prefettura, l'amministrazione comunale e le varie forze dell'ordine per chiedere maggiori controlli oltre che un'attività di indagine per risalire ai responsabili. Abbiamo apprezzato la volontà di dare risposte alla cittadinanza ma purtroppo la realtà è che i furti continuano a danneggiare e preoccupare i commercianti. L'escalation di raid tra le attività tiene con il fiato sospeso chi quotidianamente alza la saracinesca garantendo un presidio sociale. In una fase storica concludono in cui le attività commerciali fanno fatica a far quadrare i bilanci delle loro attività. Ogni furto e qualsiasi danno ai negozi mette a rischio non solo la tranquillità dei commercianti ma anche la stessa sopravvivenza dei negozi. A volte i danni alle vetrine e punti casse alle porte di ingresso sono infatti maggiori del furto in sé.